Buongiorno, benvenute, benvenuti a questo appuntamento che il settore patrimonio culturale della regione Emilia-Romagna ha organizzato in occasione dell'apertura della nuova finestra di accreditamento per i musei non statali dell'Emilia-Romagna al sistema museale regionale. Questo webinar è pensato come un momento di accompagnamento alla compilazione del questionario di accreditamento al sistema museale, viene registrato e sarà poi messo a disposizione sul sito del settore patrimonio culturale. Direi che per rendere più anche efficace la registrazione a posteriori la cosa migliore sia quella di riservare magari un momento finale per eventuali interventi, domande, richieste di approfondimento. Tenete presente che comunque è attiva la chat che è diciamo lo strumento principale per comunicare con noi e esprimere domande e dubbi sull'argomento. Tenete anche presente che da questo momento in poi comunque è sempre attiva la mail di sistema museale regionale chiocciolaregione.emilia-Romagna.it per qualunque informazione, richieste di contatti e comunque anche attiva la mail per l'assistenza tecnica che poi i nostri colleghi ci diranno tra poco. Io sono Silvia Ferrari, mi occupo del sistema museale regionale per il settore patrimonio culturale. Sono qui insieme a Beatrice Orsini, la collega che è la referente per la piattaforma di accreditamento e con Roberto Bottini, Alessandro Monco di DM Cultura, sono i tecnici informatici che fin dall'inizio hanno sviluppato il progetto della piattaforma. C'è anche Matteo Fornaciari, il nostro collega che si occupa di musei innovazioni digitali che rimane con noi sempre a disposizione. Insieme vi illustreremo le principali funzionalità della piattaforma dopo una introduzione generale sul sistema museale e le novità tecniche che sono state implementate rispetto allo scorso anno. Forse qualcuno di voi si sarà già cimentato nella sperimentazione della piattaforma in passato. Innanzitutto ringrazio tutti i collaboratori che sono insieme a noi per questa giornata e tutti voi che siete presenti e interessati all'argomento. Dicevamo che oggi, 20 settembre, a partire dalle 14 si apre la nuova finestra per l'accreditamento al sistema museale regionale per i musei non statali della regione Emilia-Romagna. La finestra sarà aperta fino al 30 ottobre 2023 alle ore 14. 15. Cos'è il sistema museale regionale? È un percorso di crescita qualitativa soprattutto dei musei e dei luoghi della cultura del territorio emiliano-romagnolo. Ha l'obiettivo di migliorare l'offerta dei servizi, favorire lo scambio di buone pratiche, promuovere la messa in rete di informazioni, risorse, idee e si muove nell'ottica della comunità museale, quindi un'ottica di insieme. Le basi di questo processo di miglioramento si fondano sull'adozione dei livelli uniformi di qualità, scusate, i cosiddetti LUC, che sono raccolti in un documento adottato dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, così nel 2018 si chiamava quando è stato approvato dal decreto ministeriale numero 113 del 2018, sono poi stati recepiti dalla regione Emilia-Romagna con una delibera di giunta, la numero 1450, sempre del 2018. Capite che questo progetto coordinato con il sistema museale nazionale si muove in un contesto di collaborazione, di una visione integrata del patrimonio in cui il Ministero lavora con gli enti pubblici proprio per andare a lavorare sull'individuazione e il riconoscimento di criteri tecnici scientifici per la qualità dei musei. Vorremmo ricordare che in passato la regione Emilia-Romagna, così come altre regioni italiane, in passato avevano già dato luogo a delle sorte di processi di attribuzione di marchi di qualità. In Emilia-Romagna l'allora Istituto Beni Culturali, che è stato chiuso, le cui attività oggi sono ereditate dal nostro settore, aveva promosso dal 2009 al 2012 il progetto Musei di Qualità, che proprio si fondava sul riconoscimento di criteri di qualità per i musei emiliano-romagnoli. Ecco, rispetto a quel percorso, quello odierno si pone in una sorta di continuità, ma naturalmente oggi, passati diversi anni, questo processo di riconoscimento di criteri di qualità e di standard tecnico-scientifici è stato rinnovato, aggiornato e soprattutto si basa su un'idea di condivisione a livello nazionale. In effetti i look, i livelli uniformi di qualità sono il risultato proprio di un lavoro congiunto tra il Ministero con le regioni, con il contributo di ICOM e con il contributo di diverse figure professionali, funzionari pubblici, insomma esperti nel campo della gestione e della valorizzazione culturale, soprattutto nel campo dei musei. Veniamo al sistema di accreditamento. Per quanto riguarda il nostro territorio emiliano-romagnolo, il processo di accreditamento si svolge su due modalità diverse. Per i musei statali e anche per i musei universitari è il Ministero che promuove la certificazione di qualità, mentre per i musei non statali e i luoghi della cultura non statali, di qualunque natura, proprietà, tipologia, natura giuridica, quindi privati, pubblici, ecclesiastici e altre o appartenenti a fondazioni e associazioni, questo riconoscimento avviene su scala regionale in un percorso che adesso andremo a illustrare, che viene coordinato dal settore patrimonio culturale, quindi da noi dello staff, proprio basandosi su un articolo, l'articolo 4 del decreto ministeriale 113 del 2018, per il quale si riconosce alle regioni che hanno attivo un processo, un percorso di riconoscimento di standard di qualità per i propri musei, si riconosce l'autonomia nel procedere con questo processo di certificazione di qualità, purché ovviamente ci siano criteri equiparabili a quelli contenuti nei look, quindi quelli ministeriali. In effetti i nostri parametri che poi sono corrispondenti praticamente esattamente a quelli del ministero, sono stati equiparati anche qui in un decreto ministeriale che ne ha riconosciuto appunto la validità, per cui ad oggi i musei e i luoghi della cultura che si accreditano al sistema museale regionale fanno il primo passo necessario e obbligatorio per essere poi automaticamente riconosciuti al sistema museale nazionale. Quindi con l'accreditamento al sistema museale regionale, dopo la trasmissione dell'elenco dei musei accreditati, sarà effettuata al ministero il quale validerà e accoglierà l'elenco dei nuovi accreditati che si aggiungono a quelli già esistenti. Noi oggi siamo alla terza finestra di accreditamento, la prima si è svolta tra il 2021 e il 2022, sono stati accreditati 102 musei del nostro territorio, la seconda finestra di accreditamento si è svolta nel 2022 e ha dato vita ad altri 14 musei accreditati, per cui oggi siamo a un totale di 116 musei emiliano-romagnoli accreditati al sistema museale regionale e di conseguenza a quello nazionale. Qualcuno di voi ogni tanto nei contatti telefonici ci chiede perché accreditarsi. Allora l'accreditamento è ovviamente, come abbiamo detto, una certificazione di qualità, quindi è una garanzia certificata della qualità dei servizi culturali offerti al nostro pubblico. Dobbiamo quindi pensarlo in un'ottica di potenziamento della fruizione del nostro patrimonio culturale, un potenziamento fatto peraltro in allineamento con degli standard che sono nazionali, quindi tutto questo favorisce la promozione e lo sviluppo della nostra cultura, della conoscenza del nostro patrimonio culturale. Inoltre questo collegamento, questo allineamento con gli standard nazionali favorisce quella che è la cosiddetta economia di scala, insomma lavorare all'interno di una comunità attraverso la modalità dello scambio, della condivisione delle pratiche, delle informazioni e anche della messa in rete, favorisce questa economia di scambio. Per quanto riguarda alcuni strumenti che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione dei propri musei, come ad esempio il finanziamento sulla legge 18, ecco in questo caso l'accreditamento dà luogo a dei vantaggi, quindi a qualche agevolazione in più, a parità di punteggio rispetto ai musei invece non accreditati. È chiaro che noi come settore patrimonio culturale consideriamo il sistema museale come un processo, come un insieme, come un momento di crescita che deve valere per musei accreditati, così per i musei non accreditati. Quindi lavoriamo nell'ottica anche qui della crescita della comunità museale in sé. L'accreditamento è un processo che è su base volontaria, quindi non è un processo obbligatorio, i musei decidono autonomamente di accreditarsi per essere accreditato dal sistema museale regionale, il museo interessato deve compilare un questionario di autovalutazione che deve essere firmato dal direttore del museo, anche se per la sola compilazione può anche essere un funzionario, un operatore incaricato a fare la compilazione, ma è nel momento dell'invio alla regione, dell'invio al protocollo che lì deve intervenire obbligatoriamente il direttore con il proprio speed, con le proprie credenziali. Dopo i miei colleghi illustreranno puntualmente questa parte un po' più tecnica. Il questionario di autovalutazione ovviamente va a registrare il possesso dei look, dei requisiti di qualità, dei livelli uniformi di qualità. I livelli uniformi di qualità sono divisi in standard minimi, sono siglati SM, standard minimi, e sono gli standard di criteri minimi indispensabili per essere accreditati, sono connaturati diciamo proprio all'idea del museo, proprio nella sua definizione in sé. E poi ci sono gli obiettivi di miglioramento, cioè quegli obiettivi che non è obbligatorio possedere per essere accreditati, ma che guidano diciamo nel processo di miglioramento dei musei all'interno del sistema museale. Sono questi questi look, questi livelli uniformi di qualità, sono organizzati in tre grandi macroambiti. L'organizzazione, le collezioni e la comunicazione che sta insieme ai rapporti con il territorio. Ognuno di questi macroambiti è suddiviso in sottoambiti, ne citiamo soltanto qualcuno, per esempio nella parte organizzazione, troveremo i look relativi al possesso dello statuto, del regolamento del museo, il possesso del documento economico finanziario, il bilancio, tanto per capirci, gli aspetti legati alla struttura, a cui viene portato particolare attenzione a tutti quegli elementi legati per esempio all'accessibilità, l'accessibilità non solo fisica, cioè riferita all'abbattimento delle barriere architettoniche, per le quali esiste comunque una legge rispetto alla quale i musei sono tenuti ad essere in regola, ma anche parliamo di abbattimento di barriere anche sensoriali e anche cognitive. Parliamo soprattutto anche della sicurezza, c'è una grande attenzione in questo nuovo questionario sugli aspetti della sicurezza, del rispetto alla normativa di legge in fatto di sicurezza. Poi c'è la questione dell'orario di apertura ad esempio, i musei per essere accreditati obbligatoriamente devono osservare l'apertura di 24 ore settimanali garantita, quindi non su prenotazione, oppure la stagionalità, cioè l'apertura di 100 giorni all'anno. C'è un'attenzione anche sull'aspetto dell'organizzazione alle figure professionali, cioè al possesso di tutta una serie di figure individuate anche formalmente, tra cui il direttore, i responsabili delle collezioni, i responsabili della sicurezza, i responsabili dei servizi educativi, delle procedure amministrative, della comunicazione e della sorveglianza. Il nostro è un sistema museale caratterizzato da, come sapete tutti, stragrande maggioranza di musei piccoli e estremamente piccoli, per cui c'è la possibilità che qualcuna di queste mansioni di figure professionali possa essere o condivisa all'interno di una rete, oppure che una figura professionale possa incarnare più di una di queste mansioni individuate. Per esempio il sottoambito invece dell'ambito delle collezioni si divide a sua volta in diversi sottoambiti che fanno riferimento ai criteri e agli standard minimi che devono assicurare lo stato conservativo delle opere, per esempio le condizioni climatiche, le condizioni ambientali, le condizioni di illuminazione, ma anche il monitoraggio periodico di queste condizioni e il monitoraggio per esempio degli attacchi di organismi e microrganismi. Su questa sezione troverete domande che riguardano per esempio la documentazione del patrimonio, vale a dire la registrazione, i registri di entrate e di uscita delle opere, l'inventario, quindi la ricognizione inventariale, la catalogazione, ma anche per esempio l'organizzazione dei depositi e quello che è tutta l'attività di studio e di ricerca. Poi c'è l'ultima sezione riguardo la comunicazione e rapporti col territorio dove si parla di tutti quegli apparati interni e anche esterni al museo che comunicano direttamente ai propri utenti il proprio patrimonio culturale. Si parte dalla segnaletica esterna che deve essere visibile, deve essere identificato il museo con una indicazione del nome e anche degli orari di apertura. La segnaletica interna anche, quindi tutti quegli apparati informativi che individuano i percorsi, gli orientamenti e l'individuazione delle varie sale adibite ai diversi usi che un museo può possedere, così come gli apparati descrittivi, le didascalie. Anche qui una grande attenzione per tutto quello che è il tema dell'accessibilità museale. Sapete che il nostro settore lavora tanto da diversi anni su questo aspetto che comunque è condiviso anche dai look ministeriali per cui strumenti, ausili per la fruizione del patrimonio anche a persone che possono avere varie fragilità, varie disabilità, è un aspetto che viene considerato più prioritariamente diciamo negli obiettivi di miglioramento ma comincia a essere presente anche in qualche standard di qualità, tali standard minimi. Ci sono domande che riguardano il sito, il sito internet che ha tutta una serie di documenti e di informazioni per essere allineato con gli standard minimi dettati dai look e anche tutta la parte che riguarda la registrazione di cosa viene fatto a livello di attività educative e di valorizzazione, di relazioni con il pubblico e non dimentichiamo anche il ruolo che il museo comincia a disegnare rispetto agli stakeholder del territorio, cioè tutti quegli enti, quelle parti, quei portatori di interesse che hanno appunto un interesse attivo verso le attività del patrimonio culturale. Ecco, questo come grande carrellata troverete nel questionario di accreditamento. Rispetto a quello nazionale, noi come settore patrimonio culturale abbiamo inserito qualche campo informativo in più, che è più diciamo parlante per noi perché vogliamo avere un quadro generale un po' più descrittivo per qualche aspetto che troverete e che a noi serve per avere un quadro più preciso di quelli che sono i nostri musei che rispetto diciamo a quello che può essere un un elenco di look che il questionario magari può presentare in maniera alle volte un po' rigida rispetto a quella che è la complessità e l'articolazione delle attività di un museo. Bene, come ricorderanno i nostri colleghi, una volta completata tutta la compilazione del questionario, c'è l'invio alla regione, quindi al protocollo. Terminato tutta questa parte, entro 75 giorni il settore patrimonio culturale provvederà a un'istruttoria in cui le vostre domande arrivate al protocollo verranno valutate, verranno fatti degli approfondimenti, quindi quasi sicuramente sarete contattati magari per chiarire qualche punto, potranno essere fatti dei sopralluoghi anche conoscitivi perché con alcuni di voi non ci si conosce ancora nelle sedi deputate. Una volta finita la selezione, la selezione dei musei accreditati sarà approvata in giunta, verrà comunicato a voi musei e dopo questo elenco sarà trasmesso, come dicevamo, agli organi ministeriali che sarà recepito per la validazione. Un'ultima nota sulla durata dell'accreditamento perché i criteri, gli standard di qualità, gli obiettivi minimi di qualità hanno una durata triennale, quindi si è accreditati per la durata di tre anni dal momento della pubblicazione degli esiti positivi rispetto alla vostra richiesta di accreditamento, quindi al termine di questi tre anni si procederà con la compilazione di un nuovo questionario per valutare e verificare la sussistenza dei requisiti. Se rimangono ancora, sapete che i musei sono degli organismi molto mobili sia a livello amministrativo che di attività, quindi molte cose possono cambiare e molti progetti, speriamo, possano essere anche portati avanti dalla regione, possono essere di aiuto per voi musei. Io mi fermo qui, rimango a disposizione delle vostre domande in conclusione di questo webinar, passo la parola a Beatrice Orsini e vi ringrazio ancora per la vostra attenzione. Buon lavoro!